Allora, buonasera. Riprendiamo il nostro dire. Bella questa frase. Siamo arrivati praticamente al periodo della guerra civile in Spagna. Pochi ne sanno qualcosa ed è bene saperlo perché la guerra civile spagnola non solo è stata una grande tragedia europea, un milione di morti, in grosso modo, tanto per intenderci, ma è stata anche una specie di prova generale di quella che sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale. La penisola iberica era rimasta un po' fuori dal contesto politico europeo per una serie di ragioni interne. Spagna e Portogallo erano un po' isolati e vedremo poi il Portogallo. Portogallo aveva preso l'iniziativa di partecipare alla Prima Guerra Mondiale, ma veniva fuori da una crisi politica gigantesca che era cominciata ai primi del secolo con la Costituzione della Prima Repubblica Portoghese. Portogallo ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale ma è stata una partecipazione marginale perché in realtà la massa, la maggioranza del paese, era piuttosto indifferente a quello che avveniva nel nord d'Europa. Però il Portogallo partecipò, vedremo dopo, per alcune ragioni politiche. la Spagna invece non partecipò proprio. La Spagna era in condizioni molto difficili, c'era una monarchia e c'era una dittatura, la dittatura di Primo de Rivera. il re era Alfonso XIII. Nel 1931, dopo la vittoria elettorale di movimenti politici contrari alla monarchia e tutti palesemente repubblicani, il re se n'era andato. non si era dimesso, ma aveva lasciato il paese, quindi senza abdicazione. E fu proclamata una repubblica, la seconda repubblica spagnola, perché la prima repubblica fu proclamata nel periodo napoleonico. Durò molto poco, ma storicamente questa è la seconda repubblica spagnola. Una repubblica tutt'altro che tranquilla, perché il paese era molto diviso fra liberali, carlisti, anarchici, radicali, socialisti, comunisti, ortodossi e comunisti toschisti, monarchici, nazionalisti, separatisti catalani e baschi, sindacati, più masse di diseredati. Quindi tutti volevano un cambiamento. Il cambiamento non era sufficiente con la partenza del re, ci voleva proprio un cambiamento istituzionale. Nel luglio del 1936, appena due mesi dopo la proclamazione dell'impero italiano in Africa, scoppia la guerra civile spagnola, che metterà fine alla confusione politica esistente, perché da un canto si creerà un gruppo di nazionalisti e dall'altro si creerà un gruppo di repubblicani. I repubblicani difendono il legittimo governo di Madrid, i nazionalisti vogliono rovesciare il legittimo governo di Madrid e ne formano un altro, che è un governo nazionalista. La società delle nazioni si trovò in grandi difficoltà, perché il passaggio dei poteri e l'infuriare della guerra civile creavano un vulnus nella pace europea, diciamo. solo che la società delle nazioni non poteva intervenire, perché non era un conflitto tra stati, era un conflitto all'interno di uno stato. E quindi l'idea di fondo che prevalse era che gli spagnoli dovevano sbrogliarsene da soli, chi avesse vinto avrebbe governato la Spagna. Però la società delle nazioni proclamò anche un principio molto importante, e cioè il principio del non intervento. Nessuno poteva intervenire per aiutare una delle due parti del conflitto. Naturalmente questa decisione della società delle nazioni impegnava i paesi membri della società delle nazioni, non impegnava però Russia, Germania e Italia che erano già fuori dalla società delle nazioni e quindi avevano le mani libere per intervenire. La Russia si schierò subito a favore del governo repubblicano, perché una forte componente di questo governo era del partito comunista spagnolo, guidato allora da una donna che diventerà celebre, Dolores Ibarruri, la passionaria. Il governo russo, il governo sovietico inviò armi, molte armi, inviò molti ufficiali istruttori ed organizzò corpi di volontari che però confluirono con altri volontari che erano a favore del governo repubblicano in una organizzazione militare che è passata la storia col nome di Brigata Internazionale. Per Stalin questo intervento indiretto in Spagna era estremamente importante per varie ragioni. Era il primo paese, dopo la rivoluzione russa, che palesemente aveva tutte le chance per diventare un paese comunista. In secondo luogo era un'occasione per sbarazzarsi dei truschisti e degli anarchici, che erano la peste nera per Stalin. Truschisti ed anarchici erano in Spagna, infatti poi si scanneranno fra loro a Barcellona, e quella era un'occasione per liquidare questa opposizione interna che faceva capo a Leon Trotsky, che a sua volta era esiliato in Messico in quel periodo. La Germania intervenne con parte della sua flotta aerea e degli ufficiali istruttori. La flottiglia aerea era la famosa legione Condor, quella che distrusse Guernica, da cui poi il famoso quadro di Pablo Picasso. Mussolini a sua volta intervenne perché la posizione dei nazionalisti era molto vicina alle posizioni fasciste. Inviò uomini, all'inizio solo volontari, piuttosto sbandati e disorganizzati. Però Mussolini aveva sotto mano un esercito in piena efficienza, perché aveva terminato appena allora la guerra d'Etiopia. E quindi poteva inviare, come fece successivamente, truppe addestrate, truccate da volontari, vere e proprie divisioni dell'esercito italiano, navi ed aerei. Nelle fila dell'esercito repubblicano affluirono tutti i fuoriusciti antifascisti e in quello franchista, nazionalista, tutti gli anticomunisti. Praticamente questa guerra civile diventò una guerra fra la destra e la sinistra. una guerra fortemente ideologizzata. Bisogna tener conto del fatto che all'inizio della guerra civile scoppiano una serie di stragi, nel primo caso, in questo caso agli inizi effettuati dai repubblicani, soprattutto nei confronti della Chiesa, che di fatto si schierava o era schierabile con i nazionalisti. Il governo repubblicano era rigorosamente laico e gli estremisti bruciano le chiese, fucilano i crocefissi e le madonne, ammazzano le suore e i preti, distruggono seminari e conventi. La stessa cosa che era già accaduta in Portogallo quando il governo repubblicano sostituisce il re ed è un governo laico che addirittura caccerà tutti i religiosi dal Portogallo e vieterà l'uso dell'abito talare, vieterà l'insegnamento religioso. I portoghesi l'avevano fatto nel 1910, poi le cose si calmarono nel tempo. Gli spagnoli lo fanno ora, nel 1936. Ora, la situazione economica spagnola era tragica. Si stima che all'incirca il 90% delle famiglie, cioè, scusate, che appena 90 famiglie controllassero il 92-93% delle terre spagnole. Latifondo estremo, contadini alla miseria, un'industria molto fragile, operai mal pagati, per cui la reazione popolare, reazione di fame soprattutto per i bassi salari, quando si formò la Repubblica fu violentissima. I proprietari vennero scannati se non riuscivano a fuggire, le industrie vennero di fatto gestite dagli operai, i loro proprietari o scannati o scapparono e quindi si creò un forte movimento di sinistre che a sua volta provocò una reazione da parte delle forze armate, di una parte delle forze armate spagnole. La situazione degenerò poi nel 1933 quando alle elezioni inopinatamente vinse il centro-destra. Radicali, liberali, conservatori, cattolici. E contro il risultato di queste elezioni, quindi contro il nuovo governo che usciva dalle elezioni del 1933, si scatenarono insurrezioni, piuttosto violente, furono organizzati scioperi piuttosto complessi, vennero fatte degli assalti alle caserme della Guardia Civil, i nostri carabinieri, e ci fu addirittura il deragliamento del treno Barcellona-Siviglia con molti morti. L'esercito, che il governo liberale utilizzò per reprimere i disordini, impiegò quattro giorni a reprimerli. Nelle principali città spagnole, a Saragoza, Madrid, Barcellona, con scontri di piazza e barricate per le strade. Però la situazione economica, nonostante la repressione, non andava avanti. E addirittura, un anno dopo, sempre il governo di destra, sospese parte delle riforme, soprattutto la riforma agraria, perché costava troppo. Nell'ottobre del 34 scoppiò un'altra rivolta, nelle Asturie. E nelle Asturie si arrivò addirittura alla proclamazione di una repubblica socialista asturiana, annientata poi dalle truppe comandate dal generale López Ochoa e dalla legione spagnola, che era fatta da indigeni, da marocchini, da algerini, da tunisini, una specie di... dalla legione straniera, praticamente. Quindi non legata alle sommosse popolari, perché anche dell'esercito non ci si poteva fidare nella repressione di questi movimenti rivoluzionari. Poi questo governo liberale andò in crisi. Non poteva più reggere. Si fecero nuove elezioni e stavolta vinse la sinistra, perché la sinistra si presentò unita sotto la sigla FRONTE POPOLARE, il Frente Popolare, che ottenne un milione di voti in più. Cioè, con il sistema elettorale di allora la sinistra ottenne 4 milioni e 800 mila voti contro i quasi 4 milioni della destra. La vittoria della sinistra portò a una serie di eccidi, ne abbiamo già parlato, all'assalto delle chiese e delle proprietà private, all'uccisione di esponenti politici dell'opposizione di destra. E per risposta ci fu la controreazione della destra che fu organizzata da un uomo politico di destra che era Primo Derivera, il cui figlio fondò la Falange, il partito politico poi di Franco. Primo Derivera fu fusilato dal governo repubblicano e un anno dopo fu fusilato anche il figlio, fondatore della Falange. quindi in questa situazione praticamente di permanente conflitto sociale che diventava un conflitto armato, nel 1936, siamo all'inizio della guerra civile, il generale Emilio De Mola, che era responsabile della guarnigione di Pamplona, organizzò un movimento di resistenza di destra e riuscì ad unificare l'opposizione di destra, i carlisti, ad esempio, con tutte le altre forze di opposizione al governo repubblicano. De Mola si collegò con la legione straniera spagnola, il terzio, dell'Ose Strancheros, che era a distanza nelle Canarie e che era sotto la responsabilità di Francisco Franco. A questo punto l'alzamento militar aveva una consistenza territoriale e militare di tutto rispetto. E l'insurrezione contro il governo repubblicano parte dalle Canarie e dal Marocco spagnolo. si sbarca nel continente europeo e si propaga immediatamente in diverse città della Spagna. Siviglia, Pamplona, giustamente, Cordova, Saragoza, La Corugna, Cadice, Cheres della Frontiera, Oviedo. Mentre nelle zone agricole ed operaie resistono le forze repubblicane. Perché il governo repubblicano a questo punto ordina la mobilitazione collettiva della cittadinanza e si improvvisano milizie a difesa del governo, milizie volontarie e a questo punto la guerra civile comincia in tutta la sua grandezza e in tutta la sua efferatezza. Diciamo, gli attori di questa guerra civile coprivano un intero arco delle posizioni politiche e ideologiche dell'epoca. I repubblicani, cioè il governo legittimo, erano formati dalle masse operaie urbane, dalle classi contadine e da una parte del ceto medio istruito anticattolico, dagli intellettuali, diciamo. Era sostenuto dalla massoneria, da buona parte dei liberali, dagli autonomisti baschi e catalani che speravano di ottenere dal governo queste autonomie, cui poi si aggiungevano socialisti, anarchici, comunisti, trotschisti, più tutti i volontari che affluivano dalle varie parti del mondo per sostenere la causa del governo di Madrid che a quel punto era il governo che combatteva il nascente fascismo spagnolo. E tra questi paesi è importante ricordare ad esempio il contributo del Messico. molti messicani si arruolarono per difendere il governo repubblicano di Madrid. I nazionalisti al contrario comprendevano i falangisti, i carlisti, poi semmai vi spiegherò cosa sono i carlisti, i legittimisti monarchici, i nazionalisti, la maggior parte dei conservatori e delle forze politiche reazionali e più i cattolici praticanti e una parte preponderante del clero cattolico, più importanti elementi dell'esercito, la maggioranza dei grandi proprietari terrieri, dei latifondisti e della alta borghesia imprenditoriale e capitalista. La guerra civile non fu soltanto una guerra tra la destra e la sinistra, tra il fascismo e l'antifascismo. Fu anche una guerra, se vogliamo, con una forte intonazione religiosa. Il clima di odio popolare e di conflitto sociale portò ad una radicalizzazione della lotta delle classi contadine operaie con l'uccisione di migliaia di religiosi, soprattutto all'inizio della guerra. una nota per spiegare meglio questo è che già prima dello scoppio della guerra civile e subito dopo comunisti anarchici avevano occupato, saccheggiato e distrutto, spesso incendiandoli, circa 160 tachiese, conventi e altri edifici religiosi, compresi i seminari. La vera persecuzione nei confronti dei religiosi ci fu dopo l'alzamento di De Mola. Tra il 18 e il 31 luglio del 1936 furono uccisi 861 sacerdoti. Nel successivo mese di agosto ne furono uscisi altri 2.100 compresi i vescovi di Siguenza, Lerida, Cuenca, Barbastro, Segorbe, Caen, Tarragona, Ciudad Real, Almeria, Guadis, Barcellona e Teruel. Alla fine delle ostilità, secondo l'annuario Vaticano, il numero totale degli uccisi tra preti e suore era pari al 13% dei sacerdoti e al 23% dei religiosi di tutta la Spagna. Circa poco meno di 7.000 persone. La responsabilità di questi massacri, ad onor del vero, non va imputata alle forze repubblicane quanto piuttosto alle milizie di volontari reclutate dai sindacati dei lavoratori socialisti, comunisti e anarchici che operarono con grande barbarie e crudeltà. sfogando un odio evidentemente ancestrale. Il generale Mola muore nel 37 mentre infuria la guerra civile. Il generale Mola è il capo dell'insurrezione, dell'alzamento. Prende il suo posto il responsabile del terzio che è Francisco Franco che diventa e resterà il comandante indiscusso di tutti i nazionalisti e gestirà gli eventi in modo tale che alla fine della guerra, vittoriosa per i nazionalisti, non ci sarà più alcuna opposizione interna al suo governo perché ammazzerà tutti quelli che erano contrari e che non sono riusciti a fuggire. La guerra durò circa tre anni. Ovviamente coinvolse tutto il paese, scavò odi profondissimi e fu una prova generale della seconda guerra mondiale. Come vi ho detto, Germania, Portogallo e Italia inviarono materiali, aerei da caccia e da bombardamento, armi ed uomini. Mussolini in particolare allestì un corpo di spedizione volontario, il CKV, che combatté duramente e ottenne dei notevoli successi nella conquista di Malaga e di Valencia che fu sconfitto a Guadalajara dalle brigate internazionali e qui è da notare che nella battaglia di Guadalajara le truppe italiane combatterono contro le brigate internazionali di cui facevano parte i fuoriusciti politici italiani. L'esercito italiano combatté tutta la guerra fino alla sconfitta dei repubblicani. L'ha detto che l'intervento italiano fu essenziale, anche se in realtà non era gradito a Franco che non voleva in via di principio essere debitore di Mussolini che Franco era interessato soprattutto ad armi, munizioni e carburante. Quello andava bene. Se invece erano i volontari o cosiddetti volontari italiani a conquistare questo o quella città invece dei nazionalisti la cosa era apprezzata ma non era gradita. Va detto che l'esperienza della guerra di Spagna per l'esercito italiano fu molto importante perché formò sul campo e su un campo europeo non in Africa la professionalità di molti generali italiani che nonostante quello che comunemente si può pensare si fece un onore nella seconda guerra mondiale. Addirittura nello stato maggiore italiano ci fu una prevalenza dei generali cosiddetti spagnoli che avevano fatto questa esperienza sul campo e che avevano ottenuto dei risultati positivi dal punto di vista bellico. La Russia assieme al Messico e a molti volontari francesi inviò sì dei volontari e dei rifornimenti e tutti questi stranieri confluirono nelle famose Brigate Internazionali. Le Brigate Internazionali erano una specie di legione straniera europea. Erano al comando di un generale russo Emil Kleber ed erano composti da uomini e donne. Questo è molto importante perché le donne partecipano attivamente alla guerra civile spagnola dall'una e dall'altra parte da uomini e donne di diversa nazionalità e anche di diverse tendenze politiche ma queste persone erano arrivate in Spagna volontariamente per sostenere il governo repubblicano in odio al fascismo. Tra questi volontari nelle Brigate Internazionali ci furono quelli italiani circa 3.350 persone che furono inquadrate nella Brigata Garibaldi con alcuni di quelli che sarebbero diventati i maggiori esponenti dell'antifascismo o del post-fascismo. Infatti tra questi troviamo tra questi brigatisti in senso buono troviamo Togliatti Longo Di Vittorio Vidali che è meno conosciuto ma che era il capo del partito comunista Trieste Nenni e Pacciardi il repubblicano Pacciardi le Brigate Internazionali ebbero un ruolo determinante in diverse occasioni difesero inutilmente Madrid si distinsero vincendo nella battaglia di Guadalacara nel marzo del 37 e nelle grandi offensive repubblicane su Belcite nel 37 su Teruel nel 38 e sul fiume Ebro complessivamente le Brigate Internazionali raccolsero circa 60.000 volontari da 50 paesi diversi e persero circa 10.000 uomini morti e altri 7-8.000 tra feriti ed invalidi però ad un certo punto la situazione girò a favore dei nazionalisti perché le grandi potenze legate dall'impegno assunto con la società delle nazioni non intervennero nel silenzio generale di Francia e Inghilterra badate la Francia poi confina con la Spagna quindi era relativamente semplice poter aiutare i repubblicani in un silenzio di tomba il 9 settembre del 36 si riunì una conferenza internazionale a Londra per porre fine alla guerra per cercare una mediazione tra le parti ma solo il Messico fu a favore della Repubblica e così il fronte repubblicano fu spezzato in due si isolò la zona basca dalla zona catalana i nazionalisti praticamente avevano occupato tutta la Spagna e a Barcellona mentre si combatteva la guerra civile scoppiò una furiosa battaglia tra anarchici sindacalisti troschisti e comunisti il che indebolì gravemente le difese della città alle varie disgrazie ai vari fatti negativi che accaddero alla Repubblica Spagnola va aggiunto un incidente aereo ecco questa è una cosa curiosa il 4 giugno del 37 la Repubblica perde tutto il suo stato maggiore che era successo? l'aereo delle forze repubblicane che era partito da Valencia fu costretto ad un atterraggio di fortuna su una spiaggia per mancarsi di carburante non morì nessuno ma il verievo lo trasportava l'intero stato maggiore repubblicano che era stato inviato dal ministro della guerra per organizzare la difesa della città di Santander assediata dai franchisti è curioso notare che questo stato maggiore quindi il cuore il cervello diciamo della resistenza repubblicana era composto da un generale russo da due ufficiali inglesi e da un ufficiale francese questi quattro furono catturati non si torse loro un capello e furono trasferiti al quartiere generale di Franco quindi la repubblica rimase praticamente decapitata nella sua struttura militare più importante nel 1938 ormai la Spagna poi vi farò vedere le cartine ormai la Spagna è quasi tutta nelle mani dei nazionalisti si combatte una durissima battaglia a Teruel e subito dopo comincia la battaglia dell'Ebro il 23 dicembre è quella per Barcellona e il governo repubblicano è costretto a trasferirsi a Chirona nei pressi della frontiera francese a ridosso dei Pirenei nei primi mesi del 1939 i nazionalisti conquistano la Catalogna cade in Barcellona nonostante una difesa disperata a cui concorrono anche le donne tra cui appunto la Dolores in Barruri di cui abbiamo parlato e a quel punto il presidente Asagna lascia si dimette e finisce la seconda Repubblica Spagnola il 27 febbraio del 1939 anche il Regno Unito e la Francia riconoscono la legittimità del governo franchista la Repubblica è finita e con essa la guerra civile il numero delle vittime è stato a lungo discusso costime che vanno tra le 500 mila un milione di persone uccise solo in guerra non nei bisordini civili le conseguenze di questa situazione anzi scusate vi posso dare delle cifre più esatte secondo uno specialista spagnolo di storia il professor Martin sto leggendo il numero dei caduti dell'esercito repubblicano è di 71 mila uomini di cui 57 mila spagnoli e 13 mila stranieri tra i nazionalisti lui registra 70 mila morti di cui 56 mila spagnoli e 12 mila stranieri altri 21 mila persone sono morte per bombardamento poi inoltre ci sono stati all'interno sia nell'interno occupato dai repubblicani sia in quello occupato dai nazionalisti altri 110 mila morti per le repressioni un totale di 270 mila morti su una popolazione complessiva che nel 1935 prevedeva evidenziava circa 25 milioni di abitanti ma anche aggiunto che subito dopo la guerra civile ci fu l'assassinio di altri 30 mila dissidenti da parte dei nazionalisti e altri 3 mila morti in azioni di guerriglia che continuarono nell'immediato dopoguerra le conseguenze della guerra civile spagnola non sono trascurabili vi ho già detto che dal punto di vista militare fu una prova generale della seconda guerra mondiale i tedeschi sperimentarono l'azione i bombardamenti di massa con la loro flotta aerea con la legione Condor gli italiani fecero le prime esperienze di truppe corazzate si fa per dire rispetto alle corazzate di oggi ma soprattutto con truppe che sul campo si addestrarono alla guerra erano già addestrate ma venivano dall'Etiopia quindi la guerra africana era un'altra cosa rispetto alla guerra europea ci fu un diciamo un miglioramento delle relazioni europee perché il governo nazionalista in fondo non era sgradito a Francia ed Inghilterra anche se era di marca fascista perché l'idea di una Spagna comunista teleguidata da Mosca avrebbe disturbato queste grandi potenze ma soprattutto Mussolini ed Hitler trassero degli insegnamenti e delle conseguenze importanti Hitler si rese conto dell'importanza dell'arma aerea non aveva praticamente speso degli uomini in questa guerra ma l'intervento della regione Condor si era rivelato decisivo indipendentemente dalle truppe di terra questo sarà un insegnamento da cui trarrà utilità al momento della seconda guerra mondiale fu la prova del fuoco degli aerei da combattimento e da bombardamento tedeschi Mussolini aveva realizzato un altro successo un successo importante perché dopo l'operazione in Etiopia la partecipazione sia pure volontaria ma in realtà non lo era delle truppe italiane in Spagna era stata determinante quindi la potenza militare italiana si era affermata su due fronti completamente diversi il fronte africano e il fronte iberico inoltre la coincidenza di interessi fra Hitler e Mussolini nel sostenere il nuovo governo nazionalista spagnolo portò ad un ulteriore ravvicinamento fra i due dittatori che si erano trovati a combattere insieme in modo diverso la stessa guerra Hitler aveva aiutato Mussolini durante la guerra d'Etiopia in spregio alle sanzioni ma la Germania non era tenuta alle sanzioni perché era fuori dalla società delle nazioni oggi si trovavano alleati nel combattere un comune nemico il comunismo che era la bestia nera delle organizzazioni dei vari sistemi statuali di marca o di impronta o di imitazione fascista c'è una cosa da aggiungere parlando del portogallo ne parliamo brevemente ma serve a completare il quadro della situazione iberica nel 1910 quindi molto tempo prima con un colpo di stato era stato deposto l'ultimo re del portogallo Manuele II della dinastia dei Braganza e fu proclamata la prima repubblica portugese come vi ho già detto questa nuova repubblica era una repubblica fortemente laica che avviò una politica di separazione nettissima tra stato e chiesa caciò tutti i religiosi dal portogallo confiscò i loro beni chiusi i conventi i monasteri le istituzioni religiose vietò l'insegnamento religioso e addirittura i gesuiti che rimasero in portogallo furono costretti a rinunciare alla cittadinanza portoghese addirittura questa nuova repubblica autorizzò il divorzio legittimò i figli nati fuori dal matrimonio autorizzò la cremazione che era proibita dalla chiesa furono secolarizzati i cimiteri e fu proibito l'abito talare quindi molto mangia preti diciamo la costituzione adottata sanciva un sistema presidenziale con poteri ridotti e con un parlamento articolato su due camere quando scoppiò la prima guerra mondiale il portogallo trovò o subì un pretesto molte navi tedesche come vi ho detto già a suo tempo alcune navi mercantili tedesche si erano rifugiate nel porto di Lisbona la Germania voleva che il portogallo quindi erano internate diciamo la Germania chiese al portogallo di liberare queste navi il portogallo risposo di no e la Germania dichiarò guerra al portogallo quindi il portogallo ci fu tirato per i capelli nella guerra quindi i portoghesi inviarono una divisione a combattere in Francia ma non c'era entusiasmo nella popolazione è difficile avere entusiasmo quando scoppia una guerra ben inteso ma la popolazione non era interessata e lo stesso governo partecipò perché partecipando all'intesa si metteva dalla parte dei probabili vincitori e quindi temendo ad esempio che gli spagnoli potessero invadere il territorio portoghese avrebbero avuto degli alleati importanti inoltre sempre stando dalla parte dei vincitori se i vincitori si fossero spartiti l'Africa le colonie tedesche c'era il rischio che il portogallo perdesse le proprie colonie in Africa stando dalla parte dei vincitori nessuno avrebbe toccato le colonie portoghesi quindi l'adesione portoghese fu un'adesione mirata diciamo molto interessata e sostanzialmente marginale si susseguirono contrasti anche qui tra progressisti di sinistra diciamo e conservatori filomonarchici ci furono addirittura nel 1915 e tra il 1917 e il 1918 due dittature diverse l'ultimo dittatore un certo Sidonio Paes fu assassinato da quel momento non ci fu più dittatura perché scoppiò una breve guerra civile in Portogallo perché nel Portogallo settentrionale i monarchici richiamarono il re e quindi si misero in contrasto diretto con la Repubblica un'altra insurrezione monarchica scoppiò a Lisbona ma alla fine l'esercito portoghese il governo repubblicano portoghese riuscì a sconfiggere i rivoltosi e nell'agosto del 1919 fu eletto fu eletto un conservatore come primo ministro ma non andò bene neanche questo ci furono altri conflitti ci fu un'altra insurrezione che è passata nella storia portoghese come la notte del sangue e pensate che tra il 1910 e il 1926 nel 22 c'è la marcia su Roma tra il 21 e il 22 tanto per localizzarci in Portogallo si successero nel tempo quindi nel giro di 16 anni ben 45 governi una situazione di assoluta instabilità cui mise fine un nuovo colpo di Stato che sulla scia delle esperienze autoritarie europee vedi Hitler vedi Mussolini il 28 maggio del 1926 mise fine alla prima Repubblica Portoghese che fu sostituita da una dittatura con una marcia su Lisbona di circa 16.000 uomini guidati dal generale Gomez da Costa molto analoga alla marcia su Roma di Mussolini andarono al potere i militari con il generale Antonio Oscar Carmona che divenne presidente della seconda Repubblica Portoghese e che affidò ad un economista Antonio De Oliveira Salazar che era già ministro delle finanze dei governi precedenti la responsabilità del governo Salazar ha mantenuto il governo con una dittatura diciamo con un regime autoritario dal 1932 fino al 1968 creando una situazione statuale singolare l'estato nuovo il nuovo stato e cioè un regime autoritario con un forte orientamento conservatore non una pedissequa imitazione del fascismo ma caratterizzato da una forte similitudine nella sua impostazione di tipo corporativo quindi il Portogallo era nel momento della guerra civile ideologicamente vicino al fascismo italiano sostenitore del franchismo spagnolo e con eccellenti relazioni con la Germania nazionalsocialista questo spiega perché durante la guerra di Spagna i confini tra il Portogallo e la Spagna rimasero chiusi per i repubblicani ma non per i nazionalisti e molti volontari portoghesi parteciparono alla guerra civile spagnola per la verità sia da una parte che dall'altra quelli che aderirono che si arruolarono con i nazionalisti furono chiamati in Portogallo viriatos non so bene cosa significhi non ho fatto il tempo a cioccarlo adesso ancora vorrei farvi vedere qualche cartina un paio di cartine per darvi un'idea sempre della situazione spagnola e quindi vediamo se riesco a condividerla come al solito ecco qua no Nando devi darmi la condivisione per favore e c'è c'è benissimo vediamo ecco qua abbiamo una prima cartina ve ne farò vedere due non tante dove voi vedete Tetuan e Melilla che sono possedimenti spagnoli sul continente africano e Ceuta di qui parte Francisco Franco e sbarca al Ghesiras questa zona gialla siamo nel luglio del 1936 mentre Franco sale dal sud verso il nord nel nord c'è già De Mola che è riuscito ad occupare gran parte delle regioni spagnole Salamanca Casares Valladolid Saragosa isolando le province basche i repubblicani si attestano sulla costa mediterranea e posseggono qui non è chiaro posseggono per il momento le isole canarie che sono delle basi navali importanti ma successivamente alla fine di luglio voi vedete l'espansione nazionalista si conquista Siviglia e Cordova siamo in Andalusia si conquista Granada Malaga sarà cerchiata l'isola di Palma di Mallorca viene occupata dai nazionalisti resterà solo questa piccola isoletta a nord che è Formentera base della Marina Repubblicana e nel nord occupato a Viga la Corugna i paesi baschi sono sempre più isolati a Burgos si trasferisce il governo provvisorio nazionalista Madrid è ancora nelle mani dei repubblicani ma Madrid verrà assediata e cadrà rapidamente e le armate nazionaliste puntano su Valencia e su Barcellona Malaga è una vittoria italiana quando cadrà nelle mani dei nazionalisti ed anche Valencia e Palma di Mallorca viene stabilmente occupata dai nazionalisti il governo repubblicano si trasferisce dove adesso punto il Maus in questa zona a Girona al confine con la Francia la Francia mentre scoppia la guerra ha chiuso la frontiera anche se filtrano un po' di armi un po' di volontari riaprirà per accogliere i resti dell'esercito repubblicano che provengono da Barcellona poi questi spagnoli saranno internati faranno una vita di schifo per diversi anni perché intanto in Francia il governo di sinistra è stato sostituito da un governo di destra traccheggeranno fino allo scoppio della seconda guerra mondiale alcuni di questi spagnoli si arruoleranno nell'Unione Sovietica altri si arruoleranno con l'esercito francese saranno successivamente perseguitati da i tedeschi una volta occupata la Francia e c'è tutta una vicissitudine molto triste molto malinconica sul fuoriuscitismo spagnolo in Francia bene e questa è un po' la situazione che che ci porta poi togliamo la condivisione che ci porta poi a diciamo al momento cruciale all'ultima all'ultima all'ultimo evento importante prima della seconda guerra mondiale andiamo in Giappone e qui io vorrei farvi vedere prima di tutto una cartina anche qui però non ho più lo schermo di no andiamo qui perché vi parlo del Giappone perché mentre accadono questi fatti in Europa altri fatti importanti accadono dall'altra parte del mondo e sono fatti importanti perché a loro volta determineranno una forte influenza sugli eventi che caratterizzano che caratterizzereanno le motivazioni e gli sviluppi della seconda guerra mondiale noi abbiamo lasciato il Giappone che ha vinto la prima guerra mondiale si è impadronito di un po' di situazioni nel sud-est asiatico il Giappone è un paese imperialista per definizione qualcuno l'altro giorno mi diceva ma perché ci si approvia dei territori beh il Giappone proprio per principio è imperialista non ha materie prime le cerca non le vuole comprare preferisce occupare i territori e quindi come si è esteso ad esempio in Corea occupandola e saccheggiandola il 19 settembre del 1931 quindi quattro anni prima della impresa etiopica il Giappone sbarca in Manciuria che è una regione cinese del nord la Cina è tanto grande la Manciuria è lontana lontanissima però è una regione immensa allora andiamo a vedere di che si tratta andiamo sulla condivisione ecco qua vi faccio vedere una cartina della Manciuria le isole giapponesi le vedete qui c'è scritto Japan andando a destra c'è la penisola russa siberiana del Kamchatka l'altra isola sopra il Giappone è l'isola di Satchelin cara Klaut che in questo momento come vedete c'è un confine divisa fra il Giappone e l'Unione Sovietica alla fine della seconda guerra mondiale tutta Satchelin diventerà russa il Giappone è un arcipelago che però ha invaso la Corea la Corea a due passi e a questo punto si sbarca a Port Arthur vi ricordate Port Arthur una delle cause una delle grosse battaglie navali d'assedio della guerra russo-giapponese sbarca a Port Arthur e si impadronisce del Manchukuo la Manchuria che è grosso modo sei volte il Giappone come estensione territoriale a sinistra della Manchuria c'è la Mongolia e poi c'è la Cina una Cina sostanzialmente inerme i cinesi reagiscono combattono ma un anno dopo i giapponesi instaurano un governo fantoccio nel Manchukuo e questo governo fantoccio sarà durerà a lungo fino al 1945 e si separa dalla Cina i giapponesi firmano una tregua con i cinesi che non durerà a lungo l'occupazione della Manchuria ha però una certa rilevanza politica perché perché gli Stati Uniti che sono lontani ma sono interessati a quello che succede attorno al Giappone e alla Cina non gradiscono questa espansione giapponese perché il governo fantoccio del Manchukuo è un governo a servizio di Tokyo anche la società delle nazioni non gradisce l'aggressione giapponese e la condanna tant'è vero che il Giappone uscirà dalla società delle nazioni il governo di Tokyo dice ma no state tranquilli io non voglio fare la guerra la Cina io voglio mantenere rapporti amichevoli con tutti e non ho altri appetiti territoriali solo che alla fine del 1931 quindi nel giro di quattro mesi il Giappone ha soppresso ogni autorità amministrativa del governo cinese nel sud della Manchuria e quasi contestualmente due anni dopo il Giappone annuncia la sua uscita dalla società delle nazioni dopo aver fondato lo stato collaborazionista del Manchukuo che viene affidato a un discendente degli imperatori cinesi ricordate il film L'imperatore L'ultimo imperatore L'ultimo imperatore Ebbene è la storia dell'ultimo del primo ed ultimo responsabile nazionale del Manchukuo La crisi però resta tra Cina e Giappone e non viene risolta né dalla società delle nazioni che si limita a recepire l'uscita del Giappone né dagli Stati Uniti o dalle altre principali potenze mondiali è una crisi che resta congelata fino al 1937 e cioè a metà della guerra civile spagnola bisogna tener conto di questi collegamenti da una parte all'altra nel mondo per capire quello che succede perché nel frattempo il Giappone che è di per sé un regime espansionistica imperialista diciamo di destra sta stringendo alleanza con la Germania di Hitler e con l'Italia di Mussolini è il momento del patto tripartito il patto dell'asse il patto tripartito e nel 1937 ricomincia in effetti la guerra contro la Cina una guerra che finirà nel 1945 dal 37 al 45 e che nasce con il famoso incidente del ponte di Marco Polo allora cos'è il ponte di Marco Polo il ponte di Marco Polo è un ponte a cavallo del confine fra i possedimenti giapponesi in Cina e la Cina fra il 7 e il 9 luglio del 1937 c'è uno scontro a fuoco tra militari giapponesi e militari cinesi le accuse sono reciproche i cinesi sostengono che sono i giapponesi che si sono vestiti travestiti da soldati cinesi per sparare su soldati giapponesi ed accusare i cinesi di aver sparato i giapponesi sostengono il contrario no sono stati cinesi a sparare sui giapponesi il tutto dicono i cinesi per giustificare l'invasione giapponese il tutto dicono i giapponesi è stata una provocazione cinese perché non digerivano quello che accadeva nel Maggiukuo sta di fatto che scoppia a questo punto la seconda guerra cino-giapponese di cui parleremo parecchio vi ricordo che questo questo equivoco diciamo questa diversa tesi storiografica cinese e giapponese sarà ripetuta nel 1939 due anni dopo quando Hitler si dorrà di un presunto attacco di polacchi contro i tedeschi mentre i polacchi diranno ma non è vero erano soldati tedeschi con le divise polacche che hanno fatto finta di attaccare i tedeschi e sarà il casus belli ma i casi della guerra erano ben altri ma sarà il casus belli provocatorio che determina determinerà l'ingresso dei tedeschi in Polonia e l'inizio della seconda guerra mondiale ci ho detto io vi lascio qui siamo alle soglie della seconda guerra mondiale e spero che abbiate gradito questa chiacchierata ho finito